Tu sei anche responsabile del settore giovanile, vediamo qui una colonia degli allievi che sono arrivati, sono arrivati vincitori 2-0, oggi è vero, qualche soddisfazione logicamente anche dal settore giovanile. Poi nelle prossime ore metteremo anche il computo di tutta quella che è stata la giornata, facciamo un po' il punto anche se sul settore giovanile prima di salutare. È stato un buon weekend, così come una prima parte di stagione è molto interessante per quanto riguarda il settore giovanile. Abbiamo dei gruppi veramente di qualità che si stanno facendo onore nei campionati sia professionistici che regionali di altissimo livello. Nelle fasce piccole del 2003 in giù siamo primi in classifica con tutte le squadre, anche se poi è un dato che non ci piace guardare o sottolineare, ma puntando proprio all'aspetto della crescita dei ragazzi va dato un merito però che abbiamo veramente all'interno dei nostri gruppi e dei giocatori veramente di livello. Peccato per la Beretti, l'unica nota un po' stonata per la prestazione di ieri, ma è l'unica in una prima parte di stagione che comunque non li ha visti avere dei risultati positivi, ma ricordando che comunque giochiamo con una squadra veramente molto più giovane rispetto alle altre, facendo in modo proprio di poter elevare la loro crescita sotto tutti i punti di vista non solo quello tecnico ma anche quello fisico e mettendogli delle difficoltà che comunque avremo modo poi negli anni successivi di poter avere dei risultati importanti.